Potrebbe toccare proprio lui, eliminare l'Olanda, portare l'Argentina a una finale dei mondiali, a 24 anni di distanza da quella d'Italia 90 e allo stesso modo, ai rigori. La rincorsa di Maxi Rodriguez. La rincorsa di Maxi Rodriguez è sempre prima di prendere i calci di riguardo. È stata una battuta brutta, con poche emozioni, alla fine sono stati più uguali dell'Argentina.